Amiche ed amici, pronti per ballare un po' la samba? Perché ho il cellulare in mano. Allora, con la menù ci siamo fatte una bella gittina, siamo state due ore al sole in campagna. Speravo di raccogliere la cicoria, ma troppo corta. Poi tutto bagnato, però avevo un pezzo di, una borsa, diciamo, impermeabile. Mi sono seduta sopra. Guardate che bella giornata. È proprio blu, come da tanto. Ma blu così. È proprio terzo, terzo. Quella menù si è beccata il cuscino dell'Oreste. Il mio sedano sta bene. Questa, beh, non volevo, ecco, non l'ho voluto raccogliere. Poi invece il bocciolo mi si è marcito sul rametto. Sto avvenendo un infuso con il mio lama, la mia lama tazza. Allora, noi si iniziamo ancora un po' il sole e il tutorial più tardi, eh. Sta un po' con gli occhi chiusi qua, prendendo un po' di calore. Sviluppiamo un po' di vitamina D. Allora, con quello scamosso, scaburcio. Oggi cambia sempre il nome. Con quell'avanzino di Gheo sono arrivata fino qua. Questo pezzettino. E poi avevo ancora un gomitolo. Mi piace talmente tanto che me lo proseguo. Ecco, non faccio una semplice bandana. Ma faccio proprio uno shawl e shawl, perché io non li amo ampi, i triangoli. Mi piace usarli, magari sì, due o tre giri intorno al collo, che li posso poi piegare. Non voglio sentire peso, mi piace sentire il tepore. Adesso vi faccio vedere. Questo è il rovescio, questo è il dritto. Ecco qua il dritto, cioè la versura infilata nel mezzo, vedete il rilievo. E sì, insomma, il colore è quasi un nocciola sbiaditissimo, molto delicato. Non è spento. Non è affatto spento. Allora, diciamo che alla... Ora contiamo le righe, vediamo se riesco. Comunque, considerate dove ho l'aggiunta. Quindi, uno, due, tre, quattro giri prima. Ecco, quindi... Quattro, aspettate, cinque, perché poi sono due qua, eh. Cinque, sei, sette, insomma, qua, diciamo, questa è la parte centrale. Poi, che mi piace di questo scialle è che sì, si intuisce un centro, ma non è così evidente. Sapete che a me, ormai lo sapranno, impressiona un po' il motivo che in qualche modo va a ricordare la spina dorsale. Non mi piacciono, non mi piacciono i trafori centrali nella schiena molto stretti, non mi piacciono le trecce centrali. Se vabbè, è un pannello di trecce dietro non mi disturba, ma è la treccia singola nella schiena che non mi piace il centro. Allora, diciamo che la misura che avevo ottenuto, quindi una bandana da collo, da fermarsi, anche con un bottone piegando due spigoli, l'avevo raggiunta con 18 grammi di gheo. Quindi, rende bene. Io sto utilizzando un uncinetto del 3,5, ma come se fosse un 4, perché mi agevola il movimento e, certo, devo fare un po' un esercizio, insomma, devo cercare di mantenere quegli spazi in modo da avere un lavoro equilibrato. Ecco, perché rimanere fedele al calibro del crochet poi rende difficile, quando abbiamo questo tipo di filati, la fuoriuscita dell'attrezzo, della punta, dell'uncino dalle asole. Quindi, avere un uncinetto di poco inferiore, ma cercare di mantenere un'apertura regolare un po' più ampia rispetto a quello che permetterebbe l'uncinetto, ecco, rende il lavoro più fluido. Questa è una questione mia, personale, ma, non so, magari può avvantaggiare anche gli altri. Quindi, considerate che con una cake da 100 grammi ci viene una bella scellina che copre anche abbastanza la schiena. Adesso io ho aggiunto una cake nuova, The Pack, nuova, nuovissima, ecco la bella, bellissima. Eh sì, dobbiamo parlare del Gheon, perché è un filato proprio bello, particolare. Poi è proprio l'alpaca, l'alpaca extrafine è l'alpaca baby, è la più dolce. Ricorda un po' l'alpaca brushed. Ah, vedete, una bella distribuzione della peluria. I due fili paralleli, perché si tratta di due fili paralleli, non ritorti tra loro, quelli che compongono le cake, stanno belli accostati, quindi non mi creano difficoltà. E non strizzo, appunto, i punti. Vedete, il rilievo si disegna veramente molto bene, che è la particolarità di questo chalet. Solo due cose bisogna ricordarsi, si compone, cioè prosegue solo con due modifiche, due giri, diciamo, parte appunto l'avvio, come di solito capita, insomma. Si comincia dal lato più lungo, ma con poche maglie, ecco perché disegna le diagonali. Così aumenta da un centro, quindi abbiamo degli aumenti sia laterali che centrali. Ecco perché abbiamo poi un triangolo che non ricorda il triangolo equilatero, che trovo che sia il triangolo più difficile da indossare. Bello se lo usiamo immenso su un divano, un bel classico chalet da divano che va a sostituire anche un po' il play. Ecco, allora mi piace come geometria ci si può giocare, ma da indossare lo chalet equilatero è veramente difficile, perché prima di avere una bella ampiezza sulle braccia, sulle spalle, abbiamo già una punta piuttosto accentuata. E magari non con tutti i filati è facile da gestire, un triangolo molto ampio. Lui rimarrà leggerissimo, molto, molto, molto leggero, nonostante questo bel volume, questa bella consistenza. È proprio diverso dal mohair, non è neanche parente. Nonostante voi vediate questa pelurietta, è proprio, è fitta in maniera diversa, non è lucida come il mohair. Diciamo che poi la parte centrale sembra quasi, diciamo, risalta come colorazione, sembra più chiara rispetto a tutta la bambagia che si disegna intorno. Quindi vediamo questi bei filini frisee dove si allungano le maglie e tutto fa motivo. E questo genere di filato in un capo così quasi tradizionale, ecco, non va a ricordare il crochet della non, non va a ricordare l'uncinetto cotonoso, ecco, è proprio anche allegro. Richiede un po' di attenzione, quindi ecco che non ci annoiamo, già il fatto di dover creare una calligrafia, no, tra virgolette, come scrivere su un foglio bianco, senza le righe. Decidiamo noi come definire i punti, nonostante ci sia comunque un calibro che interviene, il tre e mezzo. E la colorazione del Gheo renderà particolare questo modello. Io ve l'ho voluto fare, vedere con un colore così neutro. Non so, mi ha tirato quel gomitoletto ieri sera, ne ho anche altri di avanzi di Gheo, però ieri sera ho bisogno di stare, non lo so, non lo so, mi ha tirato questo colore che non è un color vecchio. Ecco, ricorda quasi il beige che si ottiene in teleria quando si utilizza il tè. Le nonne quando volevano un colore elegante per i propri corredi da tè e da tavola costicchiava andare a comprare la teleria colorata e soprattutto per chi se li tesseva in casa, ecco che andava a sbianchirsi, a sbiancarsi da sé, e ad esempio anche la canopa, con il tè veniva poi realizzato il colore più ambrato. Ecco, lui lo ricorda. Ecco, adesso è un'assenza di sole che mannata ora doveva arrivare nella nuvola, che tra l'altro tra pochettino scavallerà il sole oltre il tetto dei vicini. Diventa quasi freddo. A momenti ricorda quasi il nocciola delle banane, il nocciola chiaro della banana. È un colore donante. Credo quasi a tutti. Uh, il mio appuntamento. Delle 15. Aiuto, non si smorza, eh? Vieni qua. Oh. Quindi ci vedremo più tardi, dallo studio, se riuscirò ad avere abbastanza caldo. Credo di terminarlo nel giro che non mi crea il rilievo, perché lo vedo abbastanza carino. Per chi volesse, ecco, si potrebbe aggiungere durante questo giro un piccò nella parte centrale di questi archetti. Ma sì, ci potrebbe anche stare. Tutto sta a vedere quanto consumate del Gheo. Quindi, se volete divertirvi, come ho intenzione di fare poi, di ripetere cose che conosco che devono essere assolutamente antistresse e divertirmi con i colori, il Gheo in questo modello, nei suoi colori così vitaminici, mi può divertire. E sarà carino poi indossarlo in primavera, perché sappiamo noi che la primavera dura tre mesi, che a volte l'inverno prosegue nella primavera. E lui è talmente leggero e caldo che se magari abbiamo un abbigliamento caldo, diciamo, ma piuttosto tradizionale, nei colori, quindi certi grigi, certi marroni, ecco che è una botta di vita nella sciallina calda, dove poi magari la completiamo con un berrettino adeguato. Lui è delizioso sia uncinettato che tricottato. Io diciamo che l'ho più tricottato il Gheo, perché ho fatto i miei berrettini, li ho fatti tutti tricò. Non mi ricordo di aver fatto niente ad uncinetto ultimamente con il... No, 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 no. Non ho fatto i berretti ad uncinetto. E lui mi ha dato soddisfazione, perché ha dato dolcezza a tutto il mescolamento che ho messo insieme, perché poi ho lavorato con Scozia, Scozia 1, 1 più 2, quindi erano 3, con Confetto Scozia e Gheo, con Queen, Queen Scozia e Gheo. Gheo ho messo doppio, quindi ottenendo quattro capi. Gheo ho messo triplo. Mi sono proprio divertita e dà una mano veramente bella. Chi ha già praticato l'alpacasuri, ecco mi può capire, solo che l'alpacasuri che si trova... Io ho un gomitoletto molto ciccioso ed è una meraviglia, e costava un patrimonio e mezzo. Non so neanche più di quale azienda ed è un sogno che non fa rimpiangere, mi meglio Kashmir, manca un po'. E ce l'ho in rocca, ma è molto molto sottile, molto più sottile, mi sembra anche, lo devo paragonare, comparare, del capo, di uno dei due capi del Gheo. Diciamo che questo è zirinato, frisee, vediamo se riuscite a notare, mentre quello che ho nella rocca non mi pare. Lui è molto ricco. Quindi, croce, colori vitaminici, triangolo non eccessivamente ampio, perché poi è bello arrotolato tante volte, ma senza un volume eccessivo, sta bene sotto le giacche, fa caldo, sopra i golfini. Ecco che abbiamo una nota allegra. Ecco, aiutiamoci noi con le note allegre in questo 2022. Va bene? Allora, più tardi.